Benvenuti a una nuova edizione del Tg7. Vediamo insieme le principali notizie di oggi. Apriremo con la tragica notizia di cronaca del suicidio di un 67enne a Fondi. Ci sposteremo all'Enola, dove l'amministrazione comunale ha preso una posizione ferma in merito alla lotta contro la riforma Bolkenstein. Torneremo a Fondi, dove il Comitato del Coordinamento Democrazia Costituzionale scende in campo contro la riforma costituzionale e la cosiddetta Italicum. Come sempre ci collegheremo con la nostra redazione per le principali notizie dalla provincia, tra cui due suicidi a Latina in un giorno e la rapina a mano armata sempre a Latina. Come ogni anno, sabato 4 giugno, si svolgerà a Palazzo Chetani il concerto promosso dall'Andos Onlus. Dopo il successo auturnale, torna a Fondi il Memorie Urbane Day. Passeremo alla pagina sportiva. Il Comune di Fondi è stato designato come sede del Campionato Italiano di Ginnastica Ritmica. Torneremo poi a parlare della questione Stadio Riciniello a Gaeta. Concluderemo con l'intervista ad Erminio Di Trocchio, il supervisore dell'imminente edizione del triangolare di calcio ProTeleton tra giornalisti, politici e forze dell'ordine. Tutto questo e molto altro al nostro Tg, a tra poco. Bentornati al Tg7. Si è allontanato per qualche minuto. Il tempo di rivolgere l'arma contro di sé, un fucile che deteneva legalmente ed esplodere un unico fatale colpo. Questa la tragica morte che un 67enne di Fondi ha scelto per sé. Si trovava con alcuni familiari nella propria abitazione, ubicata in una delle traverse lungo Via Appia, quando intorno alle 14 di ieri ha compiuto l'insano gesto. L'uomo, morto sul colpo, si è tolto la vita senza lasciare un messaggio che giustificasse il proprio suicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza, coordinati dal comandante Ivan Mastromanno. Una tragedia che si accompagna ad altre due, avvenute nel giro di poche ore, nella provincia di Latina. A togliersi la vita, anche un'avvocatessa di 43 anni di Borgo Piave e un 82enne di Latina. L'amministrazione comunale di Lenola prende parte nella lotta contro la direttiva Bolkestein, schierandosi a favore degli ambulanti. La direttiva sulla difesa dei mercati va controcorrente rispetto agli interessi degli ambulanti e degli occupatori di suolo pubblico, che potrebbero vedere rinnovate le loro concessioni solamente per un periodo limitato dai 7 ai 12 anni. Nei giorni scorsi, dunque, il sindaco Andrea Anto Giovanni è stato autorizzato dalla giunta comunale ad aderire alla manifestazione Marcia dei Silenziosi, che partirà verso Roma il prossimo 9 giugno da fondi. Non lasciare che gli altri decidano per te. Questo è lo slogan con cui il Comitato di Fondi del Coordinamento Democrazia Costituzionale scende in campo sabato 4 giugno dalle 17 alle 20 in Piazza della Repubblica e domenica 5 giugno dalle 10 alle 13 presso l'area destinata al consueto mercato domenicale. È inoltre possibile firmare anche presso il Comune di Fondi. Il Comitato, promosso e costituito da sezione locale dell'ANPI, Associazione Murales Arci, Associazione Caponnetto e Sindacato Cobas Scuola, nasce nell'ambito delle campagne referendarie per il no alla riforma costituzionale promossa dalla legge Renzi-Boschi e contro la cosiddetta Italicum, la nuova legge elettorale. Un invito rivolto a tutti i cittadini e alle altre realtà associative ad aderire al Comitato e partecipare all'importante impegno referendario. Ci colleghiamo ora con la nostra redazione, dove Alessia Filippi ci informa sulle principali notizie dalla provincia. Grazie Ilaria per la linea, vediamo insieme le principali notizie di oggi dalla provincia. Un'avvocatessa di 43 anni di Latina si è tolta la vita all'interno della sua abitazione di Borgo Piave. A trovarla impiccata ieri mattina è stato un suo amico. Sul caso indaga la polizia. La triste notizia si è subito diffusa in città, dove nel pomeriggio si è verificato un altro suicidio in via Umberto I. A togliersi la vita con un'arma da fuoco è stato un anziano. Rapina a mano armata nella sala slot di via Don Torello a Latina. Un uomo con il volto travisato da un passamontagna, una volta dentro, ha puntato la pistola contro la cassiera e ha chiesto alla ragazza di mettere l'incasso della giornata in uno zainetto che aveva con sé. Non è ancora chiaro l'ammontare del bottino. Il rapinatore è poi fuggito a bordo di uno scooter, ritrovato poco più tardi e il risultato rubato. L'area marina protetta di Ventotene e Santo Stefano sarà esposta al Palazzo dell'ONU di New York. Una foto scattata nell'area marina protetta delle due isole è stata selezionata per la mostra Obiettivo Terra 2016. Il mare, polmone blu del pianeta, è inaugurata a New York presso il Palazzo delle Nazioni Unite il 31 maggio. La foto e mostra, oltre alle 30, sono state accuratamente scelte tra le 1800 pervenute nell'edizione 2016 del concorso fotografico Obiettivo Terra. È tutto per oggi, la linea può tornare allo studio a Dilaria Monacelli. Grazie Alessia. Sabato 4 giugno, come ogni anno, si svolgerà a Palazzo Chetani il concerto promosso dall'Andos Onlus Fondi. Bazar, musica, canto, poesia, balletto. Un incontro all'insegna della cultura che da sette anni, grazie all'amicizia nata tra la presidente Caterina De Filippis e la professoressa Maria Grazia Ciofani, docente di pianoforte al Conservatorio Boccherini di Lucca, si propone di raccogliere fondi da destinare alla realizzazione delle attività di prevenzione della patologia oncologica al seno. L'edizione 2016 del concerto sarà dedicata alla memoria di Caterina De Filippis, che ha strenuamente speso la propria esistenza al sostegno delle donne operate al seno, fino alla sua triste scomparsa avvenuta lo scorso 7 aprile. Tra poesia, danza e musica, l'evento vedrà, tra le numerose esibizioni in programma, la partecipazione al pianoforte di Maria Grazia Ciofani, del cantante lirico Mario Pochini e dell'attore Angelo Giannoni Sebastianini, direttore artistico della prestigiosa associazione romana Il Tempietto. L'iniziativa si avvale del patrocinio di provincia di Latina, Comune di Fondi e Banca Popolare di Fondi e del supporto tecnico organizzativo di Parco Naturale Regionale Montiaussoni e Lago di Fondi, Comitato San Magno e Proloco Fondi. Dopo il successo autunnale, domenica 5 giugno, torna a Fondi il Memoria Urbane Day, con il quadrato Basement Project Room ed Urbofficina, che invitano a partecipare allo Street Art Bus Tour. Si tratta di un viaggio gratuito su prenotazione e con posti limitati, con cui verrà offerta la possibilità di scoprire gli interventi artistici realizzati nella nostra cittadina nel corso degli ultimi tre anni, da famosi street artist internazionali. Le corse saranno tre, la prima di mattina alle ore 10, le altre due nel pomeriggio alle ore 15 e alle ore 17. È prevista la possibilità facoltativa di pranzare insieme in un ristorante locale ad un costo contenuto. Alle ore 19, le organizzazioni promotrici invitano presso la Galleria Basement Project Room, via Tommaso D'Aquino 26, per il finissage della prima mostra in Italia dello stencil artist tedesco Alias, dal titolo La Memoria delle cose dimenticate. Gli orari della galleria sono dalle 16 alle 20, dal mercoledì al sabato. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere l'articolo su tale evento di Fiorella Ialongo sul portale 26lettere.it Passiamo alla pagina sportiva. Il Comune di Fondi è stato scelto come sede del Campionato Italiano di Ginnastica Ritmica, in corso fino al 5 giugno presso il Palazzetto dello Sport di Via Mola di Santa Maria. La prestigiosa manifestazione, ad ingresso libero, è stata patrocinata dal Comune di Fondi e dal CONI ed è organizzata dall'ente di promozione sportiva Opes Italia e dall'ASD Palagym di Aprilia, che hanno scelto la città di Fondi per ospitare centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. Uno spettacolo assicurato, dichiara Fabrizio Macaro, capogruppo in Consiglio Comunale della lista IOSI. Fondi sarà ancora una volta protagonista nello sport a livello nazionale. Nel corso delle tre giornate parteciperanno alle varie discipline circa 800 ginnaste, di età compresa tra i 5 e i 19 anni, provenienti da tutta Italia e che gareggeranno per il titolo nazionale. Molti atleti e atlete soggiorneranno nelle strutture ricettive di Fondi e del litorale e di questo, come amministrazione, siamo enormemente soddisfatti. In questo modo, oltre ad aver portato a Fondi una manifestazione importante a livello nazionale, abbiamo dato modo a molte attività economiche della città di poter incrementare il proprio lavoro, senza tralasciare l'aspetto turistico e paesaggistico che offre il nostro territorio. Torniamo a parlare della questione dello stadio Riciniello a Gaeta. Mercoledì 1 giugno c'è stato un nuovo vertice in municipio, tra il presidente del Gaeta Calcio Mario Belalba e l'assessore allo sport Luigi Ridolfi, al termine del quale il presidente Belalba ha spiegato l'esito dell'incontro, affermando come l'assessore Ridolfi abbia garantito l'inizio dei lavori che consentirebbero di ottenere l'agibilità per giugno e ad eseguirli sarà la ditta Cosmac SRL di Cassino. Quindi al 100% la squadra di eccellenza della polisportiva Gaeta Calcio potrà svolgere la preparazione precampionato al Riciniello a partire dal 1 agosto. Mancano poche ore alla terza edizione del triangolare di calcio Pro Teleton tra giornalisti, politici e forze dell'ordine. In chiusura del nostro telegiornale rivediamo l'intervista realizzata nei giorni scorsi dalla nostra Greta De Filippis al supervisore Teleton Erminio Di Trocchio che ci presenta l'evento. Sabato 4 giugno presso lo stadio di Vierna Le Rosso torna la fondazione Teleton con il triangolare di calcio che vedrà protagonisti, politici, giornalisti e forze dell'ordine. Oggi con noi c'è Erminio Di Trocchio, delegato Teleton che ci racconta le novità di questa edizione. Quest'anno ci sono delle grandi novità perché abbiamo dei testimonial questo sta a significare che questa partita che ogni anno si ripete e quest'anno è il quarto anno sta a dimostrare che la gente ci crede a quello che facciamo e quindi abbiamo tre bambini di Terracina come testimonial Fabrizio, malato di sindrome di Polland Manuele, malato di orto gripos forma frutta e Matteo, malato di Smauno un grazie ai genitori che si sono resi disponibili e che saranno presenti sabato allo stadio e la gente vedrà che veramente questa cosa la facciamo con passione perché serve a dimostrare tutto ciò che noi facciamo abbiamo bisogno della collaborazione di tutti perché Teleton fa ricerca e quindi preghiamo tutti quanti di essere presenti più gente possibile che con una piccola offerta diamo la possibilità ai nostri ricercatori di continuare il lavoro che stanno facendo per questi bambini perché le malattie purtroppo nascono proprio dai bambini e quello è il modo che noi possiamo dare alla gente di venire, di vedere di andare sul sito di Teleton vedere tutto ciò che la fondazione Teleton fa le novità sono che quest'anno le formazioni saranno più agguerrite perché partecipano più gente cose che le hanno passate non c'erano saranno presenti i sindaci dei comuni limitrofi proprio a dimostrare la loro presenza che questa cosa funziona e quindi un grazie alla squadra di calcio alla società L'Unicusano Fondi e al suo presidente Nicola Ciarlone che mi ha messo il campo a disposizione e tutto ciò che avevo bisogno quindi questo va ricordato perché la gente è sempre molto sensibile a queste cose un grazie ai genitori di quei bambini che saranno presenti e mi auguro che saremo numerosi sulle tribune sabato 4 giugno a dimostrazione di quello che uno fa per la partecipazione questa edizione del Tg7 termina qui per segnalazioni e suggerimenti potete contattarci alla nostra mail redazione chiocciola tvcanalesette.it o sulla nostra pagina facebook canale 7 potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito internet tvcanalesette.it vi ricordo gli orari in cui andrà in onda il nostro Tg alle 7.50 alle 13.50 alle 18.50 alle 20.50 e alle 23.50 grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla nostra rete grazie a tutti Autore dei sovrapposti